La produttività sul luogo di lavoro si paga anche tramite servizi. Accade in un'azienda di viaccia, una delle prime del distretto pratesi, ad attuare questa forma di welfare. Sono due giorni che sono tempestato di telefonate. Per me è una cosa normalissima, una cosa che secondo me rientra proprio in una logica che ogni azienda dovrebbe anche seguire. Rimborsi per l'acquisto di libri scolastici, prestazioni sanitarie, rette degli asili e persino viaggi. In una parola, sistemi di welfare aziendale, come quello introdotto dalla ditta F2, con sede a Viaccia. Una tra le prime piccole e medie imprese del distretto manifatturiero pratese, ad aver deciso di istituire premi di risultato legati alla produttività oraria, alla redditività e all'efficienza, ed erogabili anche come beni, prestazioni o altri servizi. La novità, adottata di solito dalle grandi realtà, ma quasi una rarità per le PMI, è frutto di un accordo sottoscritto tra l'azienda e la rappresentanza sindacale unitaria, assistite da Confindustria Toscana Nord e da FIOM CGL. Al raggiungimento di ognuno, anche di un singolo target, scatterà questo premio di risultato. Dopodiché il dipendente ha la facoltà di scegliere se un'erogazione in soldi e quindi tassati, oppure un'erogazione in welfare che è completamente detassata. La sperimentazione del nuovo progetto coprirà l'anno in corso, il 2019 e il 2020. Nel migliore dei casi, ovvero al raggiungimento dei tre obiettivi fissati, il personale potrà ottenere un corrispettivo pari a circa 1000 euro all'anno, da spendere collegandosi ad un'apposita piattaforma online, per selezionare le varie offerte o ottenere buoni acquisto. Nata nel 2004 dalla fusione di tre aziende, la F2 produce prevalentemente carpenteria metallica in ferro ed inox. Ha 40 dipendenti e fattura 6 milioni di euro, in gran parte per il mercato interno. Se, come spero, i risultati verranno raggiunti, cercheremo anche di modificare o addirittura, se c'è la possibilità, di incrementare queste facilitazioni per i nostri dipendenti.